Senti, ma ti piace la macchina di... che ne pensi di quella macchina di Fabio? È un cesso, veramente! A che livello? A che livello? Che ora abbiamo mangiato le banane, vedi, e cominciamo a fare il lancio. Ne è uno, ne è due. Oh, hai fatto canes, draghi! A che la macchina di Fabio? Un chiosco di banane!